Musica Musica Vi saluto tutti cari fratelli e sorelle, benvenuti a questo sorso di ascolto della parola della Sacra Scrittura. Siamo il 4 marzo, venerdì della prima settimana di Quaresima. Invochiamo l'aiuto e il dono dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Il brano che leggeremo oggi ci riporta a Matteo, il capitolo 9 di Matteo. Lo ascoltiamo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno». Questo breve brano è incentrato sul tema del digiuno. Ricordiamo che è una delle pratiche tradizionali della Quaresima, di tutta la vita cristiana, ma in particolare della Quaresima. E questo tema diventa, abbiamo sentito, motivo di discussione e di contestazione da parte dei discepoli di Giovanni Battista spaleggiati dai farisei. Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Occorre tenere presente cosa era capitato prima di questo episodio di contestazione. e immediatamente prima troviamo la chiamata di Levi Matteo e il banchetto che lui aveva organizzato per Gesù e i suoi discepoli. Lo sentiremo raccontare domani questo episodio, non tanto da Matteo ma da Luca. Ma fermiamoci a quello che è capitato. Gesù e i suoi discepoli non avevano digiunato, anzi, avevano banchettato insieme a tante altre persone, come sentiremo domani. Ebbene, la risposta di Gesù a questa contestazione, «Come mai i tuoi discepoli non digiunano? Guarda noi che bravi che siamo, discepoli di Giovanni e farisei». La risposta di Gesù è complessa, è molto interessante, è una rivelazione della sua identità e del suo mistero. Anzitutto c'è una prima osservazione. Gesù interpreta il banchetto appena fatto come attuazione delle profezie. Le profezie presentavano la venuta del Messia come un grande banchetto, un banchetto gioioso in cui tutti erano invitati. e vedevano la venuta del Messia come lo sposalizio di Dio con il suo popolo. Gesù con queste parole fa capire che lui è il Messia mandato da Dio a realizzare una nuova e definitiva unione, alleanza, sposalizio tra Dio e gli uomini. Una vera festa di nozze. Il banchetto fatto da Levi Matteo per Gesù assorge a simbolo del banchetto messianico. Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? È Gesù lo sposo che realizza le profezie in cui Dio sposa il suo popolo, fa festa un gioioso banchetto di alleanza. Ma accanto a questa rivelazione della sua identità messianica, Gesù rivela in anticipo anche l'annuncio, l'evento della sua passione e morte. Verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Per i discepoli sarà un'esperienza di lutto, ma per ora sono a nozze, non possono far lutto, digiuneranno. Digiuneranno certamente nel tempo della sua morte, ma anche nel tempo successivo quando Gesù sarà risorto. E sarà il tempo della Chiesa, il tempo si dice del già e non ancora. Gesù è presente, ma è presente in assenza, nell'attesa della sua venuta. Ebbene, il digiuno che noi cristiani facciamo, a cui noi cristiani siamo invitati, sicuramente in tempo di quaresima, ma anche nel tempo della vita, è per ricordarci che noi viviamo certamente la presenza del risorto, ma nel modo dell'attesa, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo, diciamo nella liturgia. Il cammino della Chiesa nel tempo, e la Quarisma ci ricorda esattamente questo pellegrinaggio, è in fondo un perenne tempo di tensione verso la Pasqua eterna. Il digiuno ce lo ricorda e ci aiuta a viverlo consapevolmente, aiutandoci a non riempire il ventre e la nostra vita di cose che ci appesantiscono e ci impediscono di procedere in questo pellegrinaggio. Facciamo nostra allora questa riflessione ricca e profonda e trasformiamola in preghiera. Usiamo la colletta di questa giornata, venerdì della prima settimana di Quaresima. Accompagna con la tua benevolenza, o Padre misericordioso, i primi passi del nostro cammino penitenziale, perché all'osservanza esteriore corrisponda un profondo rinnovamento dello Spirito. quel rinnovamento che il Signore ci invita a compiere per giungere rinnovati a Pasqua. Concludiamo anche oggi ripetendoci quella formula molto bella della benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti, buon venerdì di Quaresima, ricordiamoci di pregare per la pace. Ci accompagni la benedizione del Signore e arrivederci a domani. Buon venerdì.